...con l'applicazione di vota accantonale destinata a investimenti e risultati di investizione di detenizioni finanziari 2017 per l'importo di Euro 380.466, che resta seduta a prova, che si alza, non a prova, approvato a un'unità dei presenti con il voto contrario del volo. Allora, esce così esatto, quindi ha approvato un'unità dei presenti, 15 voti a fondo. Passiamo al quarto capo, all'unità del giorno, la ratifica. No, la ratifica di libera raggiunta al Comunale, l'unità del 72, il 19.6.2018, la reazione della riflessione finanziaria 2018 per l'unità del 600. Allora, anche in questo caso abbiamo il prevede con le previsioni contabili, che è un paese favorevole e riguarda, come dicevamo prima, sempre variazioni che attestano il permanere di equilibri di bilancio. Allora, non ci sono interventi, quindi, detto avuti, ratifica di libera raggiunta al Comunale, numero 72, il 19.6.2018, la reazione della legge dell'unità del super, da buttarsi in un'urgenza, chi resta seduta a prova, che si alza, non a prova, la riservazione di tutto il prossimo esatto. Grazie. Questa è la stessa livella di prima solo che vi siete dimenticati di fare la variazione quindi portate la varia rettifica fatta in giunta per l'approvazione in consiglio però poi la contestuale variazione non l'avete portata ma questo è in formata una mano dall'altra non è un problema tanto o sono 100 milioni o sono 150 o sono 100 milioni è sempre la stessa cosa Questa delibera di giunta tra l'altro il caro sindaco fatta in là da 19 giugno sembra, se ricordo male non era manco approvata da tutti gli assessori quindi fate una ratifica di giunta al consiglio con assessori forse cambiati quindi ripeto, non abbiamo i nomi dei nuovi non abbiamo il decreto e quindi ratificiamo una cosa di un'aggiunta che non c'è più e poi non tocchiamo la relativa variazione anche su questo caso mi ha votato grazie a questo punto a questo punto si era il punto che era la poluzione del giorno non è quello che era il punto che era la poluzione del giorno